sono sognatori oggi verniceremo la parte della dei montanti e del nuovo telaio sotto rifatto prima di montare sulla cellula hanno fatto il telaio hanno rifatto il telaio ok prima di montare il pavimento cioè la prima parte del pavimento scusate verniceremo tutto il telaio il controtelaio ok in modo da proteggerlo un po dalla vernice in modo da proteggerlo dalle intemperie dall'acqua dallo sporco visto che è nuovo ed era ferro grezzo bisognava mettergli un antirombo stavattina facciamo quello poi appoggiamo appoggeremo la cellula metteremo il pavimento e forse un giorno verniceremo sembra così lontano ancora quel momento lì comunque niente stavattina ripeto telaio contro telaio verranno verniciati con l'antirombo state con noi godetevelo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo arrivati, godetevi anche voi in questo momento insieme a noi. Ciao! Eccoci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. sta mettendo il pigmento. Quanti grammi? Grazie a tutti. Segreti? Segreti? Noi non ce li abbiamo. perché a noi ci piace dire la verità. siamo perso. Grazie a tutti. Tag, grazie a tutti. aveva ragione fil di vrc 12 litri non ne sarebbero bastati domani andiamo a prendere il resto e sabato mattina lo finiamo intanto ve lo faccio vedere dove siamo arrivati tranquillo non non pretendevo la perfezione cioè stiamo lavorando su un mezzo usato sì sì sono d'accordo abbiamo fatto già la porta fatta io la porta fatta io la porta buongiorno sognatori sto tornando in carrozzeria perché oggi è arrivata la raptor che mancava non abbiamo fatto bene i conti ovvero non è che non abbiamo fatto bene i conti è che volendola fare più spessa non è bastata perciò abbiamo dovuto ordinare altri litri di colore per poter finire vi ricordate che vi ho lasciato ieri l'altro ieri venerdì ok vi ho lasciato venerdì con praticamente quasi tutto fatto anche col secondo colore solo che mancava un pezzo siamo riusciti solo a fare la porta tra l'altro la porta l'ho fatta io vediamo se oggi mi fa fare anche il resto detto questo purtroppo ci siamo dovuti fermare perché era finita la raptor erano 12 litri fondamentalmente di colore ma effettivamente come ho detto precedentemente aveva ragione fill di vrc non è bastato perché appunto abbiamo deciso di fare in modo che si fosse molto coprente e dare una sola mano non più di una mano tanto sotto era già verniciato era già stuccato insomma era posto però per fare in modo che mi dare una sola mano e che fosse una grana grossa mettiamola così ciò che si sentisse molto il buccia d'arancia non sono bastati ne abbiamo ordinati altri 8 che sicuramente avanzeranno che fondamentalmente ce ne sono già due in carrozzeria 4 più 8 questi sono di nuovo 10 se ne useremo forse 3 o 4 saranno tanti così ne avanzano comunque 4 per cosa perché ne ho comprata di più uno perché comunque il colore viene mescolato solo in fase di utilizzo alla vernice perciò diciamo si può tenere anche lì e in caso che dobbiamo fare ancora le finestre dobbiamo ancora fare dei lavoretti ci siano dei ritocchini magari anche a pennello da fare non devo stare lì a riordinarla ma ce l'ho già e comunque ce l'abbiamo ok buono adesso andiamo in carrozzeria ho già parlato anche troppo bando alle ciance ciancio le bande e mettiamoci a verniciare a dopo ci siamo pronti ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso che ha finito di molare, ha finito tutto l'esterno, ha fatto anche i particolari, perciò... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.